Oh oh, ragazze, guardate qua, affasciatevi. E' una sorpresa tanto tanto grande, però voi siete due sorelline e giocate sempre insieme, vero? Però sono di colori differenti. Allora, questa sorpresa contiene due oggetti molto grandi, molto grandi. Uno rosa e uno nero. A me non mi piace il nero. Eh, facciamo rosa. A me mi piace il nero, a me mi piace il nero e il rosa. Quindi abbiamo deciso Alessia rosa e Martina nero, giusto? Siete pronte? Siete pronte, abbiamo tolto il nastro, così vi è più facile aprirlo. Al mio tre. Uno, due, tre. Una al lago. Sì, una al lago. Gigante. Mamma mia. E' quella gigante. E' quella gigante che togliamo la busta. Mamma mia. Mamma mia. Sì, oggi apriremo le nostre nananà, gigante. Gigante. Papà, un bacetto. Un bacetto a me, mandamelo. Cari polligini. Ecco. Pro cuore. Pro cuore. Coccolina. Bellissima. E' morbidosa. Allora, adesso apriamo questa cerniera. Però fate tutto insieme con mamma, così le facciamo insieme. Sì, sì, questa è la camuscia diversa, vedi, è uguale a quella. E' un color oro, questa camuscia. Aspetta, Martina. Vedi, qua c'è l'interno la nananà. Qua c'è l'interno la nananà. Brava, spiega Martina, spiega. C'è quella... Eh, perché Martina la conosce molto bene. Allora, facciamo una cosa. E c'è i capelli rosa. Ma Martina, ma la conosci proprio bene e bene, allora. Eh, infatti. Allora, aspetta, facciamo prima queste buste. Le mettiamo qua, aspetta. Questa è la mia? Sì. Le mettiamo qua. Io vi apro la camuscia. E iniziamo ad aprire le nostre nananà giganti. Tipo che è una nananà. Aspetta. Così sono tutti gli accessori. Brava, spiega, spiega, papà, spiega. Ci sono tutti gli accessori. Qua, qua, Marti, c'è una rigetta. Si mette una camuscia. Bravissima. Qua, guarda, stai spiegando bene, Marti. Qua, metti qua, vai. E uno, due, soffiamo, vai. Guarda, è scoppiata già, vedi? Vai, fai così, spingi. Spingiala, vai. Olè. Siamo proprio piatti. Allora, io e mia mamma, Marti. Allora, aspetta, Marti. Guarda. Cosa c'è, cosa c'è? Qua ci sono un po' di accessori. Adesso, piano piano, li apriamo. Aspetta. Allora, ragazze. Marti, aspetta. Facciamo una cosa, apriamo prima questo che è il più grande, ok? Sì. Vediamo. Io vi faccio così un taglietto e tu lo apri. È duro, senti, Papi. È duro? Oh, e cosa sarà? Vediamo. Wow. Wow. Il gancio. Questo gancio si mette alla nostra nananà, qua. Ma questo è il mio. È il tuo. E lo mettiamo al tuo, Ale. Wow. Grandissimo. Hai ragione. Vai. Grandissimo. Bravissima, Alessia. Allucinante. Allucinante. Questo. Mettilo qua, Martina. Ok. Vai, spingi. Così, piano piano. Devi spingi. Spingi qua. Vai. Ok. Ok. Bravissima, Martina. E quindi. Eccolo qua. Abbiamo messo il nostro gancio. Bellissimo. Adesso apriamo ancora. Cosa scegliamo? Il maglioncino in questo. Sì, questo. Apri. No, papà. Cosa è? Cosa è? Guardiamo. Oh, il maglioncino. Abbiamo amato il cappellino. Il cappellino. Vai giù. Vediamo cosa apriamo adesso. Ok. Guardami. Va bene? Il maglioncino. Wow. Sembri una. Cosa vuoi dire? Tu sei con queste treccine. Sei una. Questo. Questo no. Ma quante cose ci sono qui dentro, vero? Vediamo. Guarda. Vediamo a mamma. Il giubbottino di te. Bellissimo. È la gondellina. La gondellina, Alessia. Guarda. Wow. Bellissima. Mettila tu, vediamo. Bellissimo. Ma questa non è solo una gondellina. È un vestitino, vero? È proprio. Guardate qua, amici. Bellissima. Bellissima. Guarda questa. Ok. Io ci faccio. Qua. Vediamo, Alessia. Oh. Che carino. Cos'è questo? Eh, sarà secondo me... È il cappellino. Bravissima. Bellissima. Bellissima. Ciù, ciù. Miau, miau. Mettiamolo qua, Alessia. Una gondellina. Una gondellina. Bellissima. Miau, è un po' rock questa nananà. Aspetta che apri con Marti. Sì, sì. La mettiamo pure a Marti questa gondellina, dai. Eh sì. Eh sì. Ma quanti accessori che hanno queste nananà, ragazze. Qual è? Oh, il cappottino. Il pellicciotto. Ma che bello. Mettilo tu, vediamo. Riesci a metterlo questo pellicciotto, vediamo. Una felpa. Miau, com'è bella. Una felpa. Bellissima. Guarda che bella. Com'è bella questa felpa. È da ginnastica. È da ginnastica. Sì, è da ginnastica. Sì, è una cosa. Ma che cos'è? Vediamo. Guarda. Guardate. Oh, oh. È l'intimo, Alessia. Questo è lì. Bravissimo. È un costumino, dai. Vedi ancora dentro c'è pure qualcos'altro, vedi? No, no. Dov'è la bustina? Questo che cosa è, mamma? Cos'è questo? Questo? È un vestitino, ragazzi. È una minigonna, un vestitino. Un altro vestitino. Ma è proprio rock. Da mettere sotto con questo. Andrà. Sono pure completissimi, hai visto? Eh sì, aspetta. Bu, cos'è? Cos'è? Oh, oh. Una magliettina. È la magliettina. Oh, j'adore. Wow. Ma mamma. Wow. Pure per te. Guarda qua. Oh, oh. E qui? Altri due. Adesso prendiamo questi due. Ma prendiamo la mia canzone. Wow. 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 Buonanissima. Wow. Ci sei riuscita a farlo scoppiare, Marti. Cosa c'è qui? Prendiamo. Prendiamo. Altre sorprese. Allora. Che buste? Quando? Quale apriamo? Questa. Io. Questa. Questa tua. E questa è tua. Mamma mia. Mamma che scarpe. Wow. Mamma mia. Pure la spazio. Ma guarda. Che l'ho vista. Che scarpe, ragazze. Ma ti ricordi che l'abbiamo vista tutta l'acqua. Eh sì. Che scarpe. Sì. Aspetta. Però c'è una cerniera. Però c'è una cerniera. Ma c'è questa, vedi. Sì, sì. Dai. Cosa sono? Sono bellissime. Io oggi hanno fatto la domanda. Le occhiali. Wow. Vediamo. Bellissime. Bellissime. Prego, ma tu è bellissima. Dai, Marti. No, vabbè, no, vabbè, guarda qua. Mamma mia. E' veramente bella. Wow, il festiva nel contesto. Oh, no. Wow. Ma guarda, no. Ma guarda, no. Ma anche questa. Mamma mia. E' come questa. E' certo. Vediamo. Mamma mia. Ma che carine. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che carine, ragazze. Bellissime. Bravissime. Brava Ale. Vai, gira e scoppia. Giralo. Basta. Gira. Gira. No. Bravissima. Gira. Ecco qua. E ora? Cosa ci sarà qui? Vediamo se qui ci sono ancora sorpresi. Non finiscono più queste sorprese, ragazze. Vediamo. Apri. Mamma mia. La pantofolina. Ancora. I tocchi. No, vabbè. Ma che carine. Bellissime. Come ad Alessia, perché vedi? Sì, sì. Le porto fuori. E le tue invece, Marti, come sono? Vediamo. Aspetta. Che carine. Bellissime. Adesso questo. Ecco, vediamo. E qui? Cosa c'è qui? Da, vabbè. Wow. La spazzola, Alessia. Guarda qua. Wow. Mi sa che abbiamo invertito le costine. Come? Mi sa che quello è su. Perché? Quanto è stato da lì? Eh no, quello è stato colorato. Sì. Ma vabbè, apri questo e lo vediamo, no? Poi vediamo di chi sono, dai. Ah no, vedi? Sì, abbiamo invertito. Queste sono le tue e queste qua sono quelle di... E dammi le tue. Ma quelle sono di Martina. Ah, quelle sono di Martina. Eccole. Eh sì, tutto il colore. E queste sono le tue. Eh sì. Vediamo, vediamole. Ti ha aperto? Guarda qua. Ma sono bellissime però. Metti tutte le scarpine che le fai vedere. Facciamo la collezione. Bravissima Ale. Marcin, a te ti piace? Sì, non lo so, mi sa che queste sono di qua in base ai colori. Guarda. E se ne prima mi piacerà molto. Gli stivali? Bellissime. Non gli metti gli stivali? No, Alessia, gli stivali. E gli stivali? Dove sono gli stivali? Oh. Gli stivali. Eccoli. Sono giganti. Sono giganti. Beh, io direi che si possono pure scambiare i vestitini poi. Sì, certo. Sì, sono quelli più grandi? Certo. Vediamo. Bellissimi. Non ti verrà, non ti verrà, non bere. Vediamo. Le nananà, le mie nananà siete voi. Mamma mia, bellissime ragazzi. Mi viene dato policiali e tutto. Allora, amici Adesso Aprite Non dovete tirare fuori questo a mamma Qui sotto Wow C'è la vostra nanana Quindi dovete rompere Rompi, rompi Mamma che bella Aspettate Bellissima Bellissima Ancora Mamma mia E' grandissima Bellissima Dai Vediamo Wow Che capelli lunghi E' vero Lunghissimi Fuori fino al culetto Mamma mia Fuori fino alle gambe E' bellissima Allora testo Aspetta Andiamo a Martina Dai Marti Eccolo Chiari Mamma mia Bellissima Marti Uno Due Wow Bellissima Bellissima Questa è la mamma Questa Allora Ora scegli un vestitino Allora Questa Ti dà Questa Cosa divertiscono adesso Questa Bellissima E' bellissima Questa Questa che bellissima, bellissima, bellissima e vediamo al prossimo video Ciao